Capitaneria di Porto, il Contrammiraglio Antonio Ranieri visita in sede. Lo scorso 1 marzo il direttore marittimo della Sicilia orientale Contrammiraglio Antonio Ranieri, a conclusione dell'ispezione amministrativa dei servizi, ha fatto visita alla Capitaneria di Porto di Siracusa dove è stato accolto dal capo del compartimento marittimo di Siracusa, capitano di Vascello Andrea Santini e da tutto il personale della Capitaneria di Porto e dei dipendenti uffici marittimi di Avola, Marzamemi, Porto Palo di Capopassolo. Il direttore marittimo ha incontrato un'assemblea personale militare civile in forza del compartimento di Siracusa esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione, l'impegno e la perseveranza che viene riposta nell'assolvimento degli incarichi istituzionali.